Buongiorno signora, buongiorno, com'è il viaggio? Super, un viaggio splendido, ti consente di vedere un meraviglioso scorcio del vostro paese. Muy lindo, muy bueno, un viaggio bello, gradevolissimo, lo raccomando a tutti. Recomendable. Una volta arrivati a Trieste torneremo a grado in bicicletta, è davvero bellissimo. Non solo un passaggio utile ai triestini per approdare sui tre chilometri di spiagge dell'Isola del Sole, ma anche un vettore turistico per portare a Trieste i turisti, soprattutto austriaci, che soggiornano a grado. Le voci dei passeggeri della nave adriatica, che ha preso servizio ieri, parlano chiaro. Al primo viaggio verso Trieste la nave si è quasi riempita, norme Covid permettendo di vacanzieri desiderosi di visitare la città della Bora. Ecco dunque che la ripartenza del collegamento dovrebbe far parlare di più in realtà della grado Trieste, non come tragitto di ritorno, ma come opportunità tornata operativa a seguito della gestione del servizio appaltato da TPL FWG all'armatore veneziano Pierfilippo Vidali. Eccoli al primo sbarco alla radice del Molaudace, un approdo privilegiato che permette l'immediato ingresso in piazza dell'Unità, ai caffè storici del centro, alla salita, al colle di San Giusto, ora possibile anche in ascensore dall'omonimo park, alla sosta enogastronomica nei locali, piuttosto che allo shopping. In tempi di ripartenza un segnale chiaro per gli addetti ai lavori.